Le api non fanno parte del mondo. Le api sorreggono il mondo. In casa Cavese, dopo le riflessioni, è arrivato il momento del cambiamento. È stato esonerato l'allenatore Giuseppe Ferazzoli e il suo posto viene preso da Emanuele Troise. Ferazzoli paga soprattutto l'involuzione mostrata dalla squadra aquilotta sul piano del gioco, non soltanto la distanza importante dal primo posto nel girone I del campionato di Serie D. Con 26 partite ancora da giocare, il divario tra gli aquilotti e il primo posto non è ancora incolmabile. Ma la mossa del cambio del tecnico sta a significare che il club guarda anche il modo di giocare della squadra, che a tanti non è piaciuto. Molte difficoltà sul piano della mentalità, della costruzione della manovra, approssimazione, imprecisione, poco movimento senza palla, con la conseguenza che sono stati troppi i lanci lunghi a scavaccare il centrocampo e pochi gli scambi con palla a terra. Un punto di forza lo aveva la Cavese e quello era la concentrazione in fase difensiva. Ma proprio domenica scorsa, in occasione della gara persa con Gelbison, anche quella è venuta meno. Per poter sperare di recuperare il distacco dal Gelbison primo classificato, i bianco-blu dovranno augurarsi qualche passo falso delle squadre che gli precedono, ma dovranno anche cercare di inanellare un filotto di partite positive. A cominciare da domenica prossima al Simonetta Lamberti con la Versa. Finito il ciclo di Ferazzoli comincia quello di Troise. 42 anni, originario di Volla, è stato un difensore centrale, arrivando anche in Serie A con Napoli e Bologna, e ha accumulato presenze nell'Under 21 di Tardelli, ma da allenatore si è formato nelle giovanili di Casertana e Bologna, vincendo un campionato di primavera 2 con gli Emiliani due anni e mezzo fa. L'unica esperienza alla guida di una prima squadra per Troise è stata nella scorsa stagione al Mantova, con cui si è qualificato ai play-off per la promozione dalla C alla B, grazie al nono posto conquistato in un girone molto competitivo come quello del Nord-Est. Poi il Mantova è stato eliminato per mano del Cesena, dopodiché lo stesso Troise ha deciso di non proseguire con la società virgiliana. La scelta effettuata dai Biancoblu di affidare la panchina a Troise ha fatto storcere subito il naso a molti tifosi di Cava, che probabilmente per il dopo Ferazzoli si aspettavano un tecnico di maggiore esperienza della categoria. Troise infatti sarà la sua prima stagione in Serie D e avrà l'opportunità attraverso il lavoro di smentire gli scettici. Sarà fondamentale intervenire sul gioco collettivo e di squadra e sul carattere dei giocatori. Oggi pomeriggio alle 18 è prevista la presentazione ufficiale del nuovo allenatore della Cavese presso l'hotel Holiday Inn di Cava. Grazie. 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 Grazie.